Manola Di Pasquale, cosa è accaduto ieri durante il Consiglio Comunale? Nella ristrutturazione di tutte le partecipate del Comune in sindesi si è decretato che il Comune manterrà come partecipato la TEM alla quale affiderà una serie di servizi che già aveva prima, con esclusione di altri come la pulizia degli immobili e la gestione dei servizi museali. Questo perché negli anni Brucchi ha trasformato la TEM in un'SPA privatistica togliendomi la funzione strumentale e facendola partecipare in altre gare, in altri comuni che non sono soci. Da ultimo Giulianova, la scelta politica di far partecipare la TEM ad altre gare fuori dal Comune di Teramo ha impedito oggi al Comune di poter ridare alcuni servizi, commettendo quindi in mobilità 40 persone della TEM che erano addette a questi servizi. Ed ieri si è proprio decretato questo. Oltretutto il sindaco non ha affatto detto cosa vuol fare di questi servizi e cosa vuol fare di questo personale. è una grave irresponsabilità di una cattiva amministrazione di questo centro-destra negli ultimi cinque anni. Tutta l'opposizione ha abbandonato l'aula poi? L'opposizione ha abbandonato l'aula perché in realtà lui aveva un'evidente incompatibilità. La moglie lavora presso la TEM e nei servizi cimiteriali. Ieri bisognava decidere se mantenere la TEM o il mote come partecipata e si decideva se ridare o no i servizi cimiteriali alla TEM stessa. È evidente che una sua decisione non era una decisione oggettiva ma era sicuramente condizionata dai suoi rapporti parentali.